A Monza, Coop Lombardia ha aperto un nuovo modello di riferimento di Superstore, che si sviluppa su 2500 metri quadri su un unico livello. Il reparto ortofrutta apre classicamente il percorso del negozio, con un'area ampia che mette insieme frutta, verdura, frutta secca e succhi per creare un unico mondo benessere. In particolare, al centro sono collocati i banchi dedicati alla merce sfusa di stagione, formati da palleti inclinati per favorire l'esposizione e il rapporto con la clientela. Si inizia con la frutta, seguita dalla verdura, le cui offerte vedono una quota importante del brand origine, la firma di Coop dedicata alla figliera di qualità e alla tracciabilità totale. Alcuni moduli sono dedicati alla collaborazione di Coop Lombardia con IEO, Istituto Europeo di Oncologia, sull'alimentazione SMART. L'obiettivo è fornire alcuni consigli su una dieta sana e bilanciata che prevenga le malattie. In linea con questo approccio salutista, sono stati anche creati stili di spesa specifici, identificati e identificabili attraverso loghi e colori differenti, presenti sia all'interno dei reparti, sia in uno scaffale personalizzato inserito proprio all'interno del reparto ortofrutta. Un esempio di questa soluzione è ulteriormente evidenziato nel banco refrigerato dedicato ai prodotti di quarta e quinta gamma, con minestroni, zuppe e piatti pronti a base di verdure. Il banco presenta cartelli con la scritta Easy, la spesa è comoda e veloce. Non manca il bio che, con moduli personalizzati, occupa un'intera parete di prodotti, sia sfusi, sia confezionati, tutti a firma Vivi Verde, la MDD di Coop per il biologico, il cui claim è buono per te, buono per l'ambiente. L'attenzione all'ambiente non riguarda soltanto il bio, come dimostra la comunicazione di reparto, orientata a sottolineare comportamenti virtuosi della catena, come l'utilizzo di vaschette riciclabili e in plastica riciclata. In quest'ottica, anzi, all'inizio del percorso, in sostituzione dei sacchetti di plastica normalmente utilizzati per riporre la frutta e verdura acquistata sfusa, è proposta alla clientela la vendita di una rettina da utilizzare per inserire diversi prodotti. Infine, va sottolineato che questo superstore è il primo negozio Outings Friendly, con il patrocinio dell'Unione Europea, grazie all'adozione di soluzioni come la regolazione acustico-luminosa e la comunicazione visiva secondo i criteri della comunicazione aumentativa alternativa.